Il posto e anche con lo staff si sono trovate molto bene finora e pensano che hanno le potenzialità per vincere il campionato, quindi bene. Sulle quattro americane che sono qui è bello averle perché comunque giochiamo allo stesso modo ed è bello anche avere qualcuno su cui contare, però comunque facciamo quello che serve alla squadra e che serve all'allenatore e siamo versatili su questo. Tua sensazione sul primo allenamento? Che è il primo allenamento e che stanno cercando un attimo di mettersi sulla stessa linea però è molto contenta del gruppo e quindi tutto bene. Si sente anche molto più preparata, magari fisicamente è una prova dura, però si è rimessa fisicamente e adesso è anche molto più forte mentalmente, quindi la maternità aiuta. È molto contenta anche dell'approccio mentale che ha Mazzanti alla squadra e l'atmosfera che si deve creare è forse una delle cose più importanti e si sente che si sta creando una buona atmosfera per ora. Grazie.